Ciao ragazzi e ragazzi, questa è la mia monica rodina, cosa che faccio per mangiare a dormire. Allora, la prima cosa, metto a botto il, 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 il computer, il computer, il computer, il computer. ok 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 Grazie. Grazie. Ecco. Eccociate. 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 Ok. Ok. Va per il cuore, tutto mettiamo... ...un altro cuore. E' un altro cuore. E' un altro cuore. Ok. 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 Dopodiché. 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 ... 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 c'è il mio amore ahi c'è il mio amore oh Grazie a tutti. 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 Mamma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo domani con il prossimo video perché io ogni giorno faccio un video. Ok? Ciao! Ciao!